Sono partito da alcuni elementi del manifesto archizoico che ho scritto alcuni anni fa in occasione dei 200 anni della nascita di Darwin e 150 anni della pubblicazione dell'origine della specie per arrivare alla definizione di questa stanza per la triennale. In particolare ho preso spunto dall'idea di ripercorrere quelle che sono le forme animali come motore ispirativo delle architetture o delle opere con cui lavoro. Ursus è una piccola architettura, una microarchitettura in cui si possono svolgere quelle che sono le funzioni più importanti dell'abitare. È un abitare minimo, diciamo può somigliare quasi a una tenda, a un rifugio e mi piace pensare che si possa collocare questo oggetto all'interno di un paesaggio naturale, non un paesaggio urbano ma un paesaggio magari di boschi su una collina e così costituisce un elemento sia di land art che di architettura.